benvenuti e ben ritrovati qui sul mio canale qui è il vostro mister frubis vi ricordo subito prima di iniziare di iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un like se avete bisogno di informazioni qua c'è il mio link al discord il mio contatto privato mi potete contattare qui e vi inviterò nel discord per tutte le altre informazioni potete scrivermi su youtube o anche personalmente sulla pagina facebook rispondo a tutti cerco di soddisfare tutte le richieste vi ricordo inoltre che se avete bisogno di recensioni su pad periferiche per nintendo xbox switch grip per i pad test di aim controller smontaggio montaggio dei kit remap extra dei gruppi anche dedicati vi invito a passare anche sul suo canale ma bando alle ciance partiamo col nuovo video vediamo che vostro mister frubis che vi parla oggi siamo qui con un nuovo video ebbene sì come vedete dalla schermata c'è un update per il pack essenzial credo che abbiano fatto delle modifiche per andare a correggere questa minchiata che ha combinato activision con i reculi delle armi speriamo che sia così adesso andiamo ad aggiornare un pack per vedere che cosa succede adesso lo faremo insieme andremo aggiornare un pack per vedere cosa succede stasera farò qualche prova ragazzi e domani vi porterò di sicuro un'arma vediamo se sto crick sto fara sto sto sistemato come sempre vi ricordo di scaricare l'applicazione monkey gaming se avete bisogno di fare acquisti di informatica joypad computer schede video quant'altro e di utilizzare il codice sconto che trovate in descrizione mister frubis avrete diritto a uno sconto ragazzi vi chiedo scusa dell'assenza per questi giorni ma sono stato veramente incasinato tra lavori e adesso in questo momento che sono le 18 13 2 settembre in realtà il bimbo stava dormendo e mi sono messo al pc per provare a utilizzare il programmino zen scripter ma ho collegato la zen e ho visto questi aggiornamenti quindi andiamo subito a vedere che cosa cambia se è cambiato qualcosa adesso io vi faccio vedere come ne sento uno perché mi ha scritto qualche ragazzo youtube dicendomi perché non metti una cam sulla zen per fare vedere i passaggi ragazzi i tasti sono sempre gli stessi per il pack essenzial e per il pro pack tranne per il season 5 che per entrare nel menu è l2 e tasto option ma per il pack essenzial e per il pro pack è sempre touchpad più option allora andiamo a impostare qua io gioco con bumper ping metto la mia sensibilità a 3 io come sapete gioco basso curva di mira lascio standard qua inversione della mira non si tocca diamo enable line assist io lo lascio a 15 qua respiro automatico del cecchino lo stacco io la vibrazione la lascio spenta quale voci non sono cambiate come vedete c'è ricarica rapida air trigger che vi ha corsa alla corsa di l2 ed r2 ma non vi serve per chi gioca con tattico quindi usa già per sparare l1 e r1 lo slide cancel che io vado ad abilitarlo perché è comodo io l'anti recoil uso la ds anti recoil weapon swap ricordatevi di lasciare sempre automatico e se si invertono le armi touchpad e triangolo per switchare all'arma primaria touchpad e cerchio per switchare alla secondaria parliamo dei comandi ps4 ps5 ragazzi vi do una leggera infarinata ma cerco di correre perché il tempo a disposizione non è tantissimo allora andiamo a vedere qua se è cambiato qualcosa sulle armi no le armi sono sempre lo stesse ots tech 9 tech 9 auto sono sempre le stesse armi 15x9 c'è psh vediamo un po vediamo un po ok adesso io per non saper né leggere né scrivere provo di nuovo a fare un pack col krieg vediamo se sono cambiati ok il recoil è sempre a 180 facciamo la seconda arma e ci mettiamo cosa ci mettiamo cosa ci mettiamo cosa ci mettiamo ci mettiamo la nostra il nostro bel mp5 io poi utilizzerò la sicov ma mi trovo bene così ragazzi se utilizzate la sicov nella con la canna che spara già a raffica non utilizzate assolutamente la sicov qua perché al rapid fire attivo quindi peggiorereste soltanto la vostra situazione allora anzi ci mettiamo l mp7 visto che è tornato in oggi e poi andiamo a vedere gli altri profili tocchiamo vi ricordo che se vi fate questi loadout qua tutti questi qua per accedere al loadout dovete premere touchpad e l2 ok vi si apre l'elenco e voi selezionerete quello che volete io mi faccio un pack per arma perché mi trovo più comodo così chiudiamo e andiamo a salvare ragazzi vi ricordo che dopo che avete fatto l'aggiornamento dovrete reimpostare tutti i pack perciò salvatevi i valori o perlomeno col casino che è successo adesso forse fate bene a boh cancellare e ripartire un attimo da zero spero che questo aggiornamento sia andato a correggere pattern delle armi activision ha fatto questo errore di buttare rinculo sulle armi accarrettate e quindi ci siamo trovati un po' spezzati questo aggiornamento penso che vada a correggere quello e altri piccoli bug che c'erano tipo io sul rapid fire con l'essential non mi trovo molto bene per dirigo il pro pack nel frattempo aggiorniamo anche tutti gli altri pack facciamo tutti gli aggiornamenti questo qua è chiuso vi dico stavo provando l'XM4 ragazzi è veramente veramente tanta roba allora qua ci avevamo rifacciamo un altro pack così chi magari ha le prime armi vede e chiarisce un po' le idee o perlomeno gli viene più facile sensibilità stick qua è la vostra ricordatevi sempre di tenere le vibrazioni attive sulla console e anche nel gioco e di accendere la console dal tasto giola morta lasciamo 5, standard, mira invertita non si tocca abilitiamo l'ime assist pira automatico del cecchino non lo tocchiamo la vibrazione questa qua se lasciate on il vostro pad non vibrerà io lo tengo spento perchè l'astro posso disabilitarlo ovviamente dal software del joypad poi abbiamo la ricarica rapida non la tocchiamo airtrick che ve l'ho spiegato prima abilitiamo lo slide cancel io l'anti recoil l'ads qua di nuovo weapon swap facciamo automatico qua ci mettiamo l'XM4 primo e la secondaria sulla classe io non mi ricordo ah eccolo qua il ppsh41 andiamo a cercarlo un po' ve l'ho visto qua eccolo qua psh41 chiudiamo e salviamo allora tutte queste impostazioni qua potete anche farle una volta che avete aggiornato i pack potete anche non farle manualmente da qua ok? dalla schermatina potete anche farle direttamente col joypad vado entrando nel menu touchpad e option entrate nel menu scorrete con R1 e vi attivate le vostre voci questo se siete un po' più pratici se siete ancora un po' all'inizio fatelo da qua e poi salvate mi raccomando aspettate il tempo necessario che ci mette a salvare e non scollegate mai nulla salvato il video è terminato spero di esservi stati utili dandovi questa info di questo nuovo aggiornamento quindi aggiornate subito immediatamente i pack fate delle prove e lasciatemi dei commenti ditemi come vi state trovando e aggiorni vi porterò il video sullo gen script perché molti mi avete scritto ma io non ho ancora avuto il tempo di metterci mano oggi lo stavo per fare e tac è sbucato questo aggiornamento qua chi ha bisogno del programma mi scriva su discord ragazzi vi ricordo di entrare in discord nel mio discord e non semplicemente di mandarmi l'amicizia ok quando io vi mando l'invito l'invito ha una durata se voi non lo accettate subito poi mi scrivete dopo una settimana mi dice che non è valido e per forza l'invito ha una durata di un tempo e di un massimo di utilizzi ok quindi basta che mi inviate la foto della zen in privato e io vi faccio entrare nel discord non spaventatevi quando vi chiedo la foto perché a me della vostra zen non me ne fotte una minchia detto in parole povere lo faccio soltanto per evitare che nel discord entri gente che non c'entra un cazzo che viene solo a rompere le scatole o comunque dare fastidio il video è terminato vi lascio un saluto a tutti condividete e lasciate un like ci vediamo alla prossima ciao